Scatola allarme del governo, nelle case di cura si morono il giorno, reazioni avverse, dipenderà da noi, vuole dire buon anno a tutti, gente che sposta pesi, film per bambini, Pinocchio, il dottor Zivago, vago, divago, pubblico ergonomico, gente molle come un totano, è più interessante scaccolarsi, due pagine di fila, gli dai fastidio, fai di noi ciò che vuoi, non voglio esserci, discutono dei titoli, sorridere dai propri errori dalla parte della verità, duri colpi che la vita ci insegna, crescere, caramelle squisite.